Si faceva chiamare Famiglia Montana, la baby gang che è stata sgominata dalla polizia di Stato ad Arezzo, una vera e propria organizzazione criminale che seminava il panico tra giovani e giovanissimi, soprattutto durante il 2021. Con il volto travisato, vestiti di nero, armi in pugno e l'immancabile dicitura 5200 codice postale di Arezzo, la baby gang negli ultimi mesi aveva messo a segno oltre 15 tra rapine, aggressioni e distorsioni. Dopo l'arresto del capo, un ventenne cantante trap che si faceva chiamare Montana, da Tony Montana, personaggio del film di Scarface, adesso sono stati arrestati gli altri componenti. In tutto nove minorenni tra i 16 e i 17 anni, magrebini, rumeni, albanesi ma anche aretini, in sei sono finiti in carcere e tre in comunità. Non ci siamo fermati semplicemente all'arresto di minori e quindi della cosiddetta baby gang, ma parliamo di una vera e propria associazione a delinquere. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze e condotte dalla squadra mobile della Questura di Arezzo e dal nucleo investigativo della Polizia Municipale. Non nascondo che nel corso dell'anno 2021 molti ci dicevano che avevano paura anche ad uscire nel centro, soprattutto nella zona Sant'Agostino, Portici e Piazza del Popolo, sono zone frequentate maggiormente da questi soggetti. L'episodio emblematico della notte del 7 novembre, dove sono state proprietate dalle 6 alle 8 rapine, ancora una cosa un po' incerta perché non tutti hanno denunciato. Un'organizzazione verticistica, un sodalizio estremamente forte, chi faceva carriera poteva usare sui social il nickname Montana. Punto di ritrovo Piazza Sant'Agostino, la fottuta piazza, così la chiamavano, ma le aggressioni avvenivano in tutto il centro città. Non è l'unico gruppo autore di fatti di questo tipo, certamente però è un gruppo molto corposo, molto numeroso. Con questa organizzazione, con questo livello di violenza, fortunatamente al momento possiamo ritenere che non ci sono altri gruppi con le stesse caratteristiche.